Ciao e benvenuti nella rubrica Fai del tuo meglio, in cui condivido tutta una serie di tips derivanti dagli studi, dalle ricerche del mondo neuroscientifico che però possiamo portare concretamente nella nostra quotidianità per avere una migliore gestione delle nostre energie durante il giorno e una vita di più alto profilo. Oggi ti parlo, collegandomi all'argomento dell'altra volta che era l'attivazione del flusso ottico attraverso il flusso del movimento armativo, ti parlo ancora di un'altra stimolazione legata ai nostri occhi al mattino che è molto importante ed è la stimolazione attraverso l'esposizione alla luce solare di primo mattino che i nostri occhi dovrebbero ricevere. Perché? Perché la luce solare al mattino stimola dei neuroni dei nostri occhi deputati a dare il segnale al nostro corpo, al nostro sistema generale che siamo svegli, che è ora di stare svegli e quindi innescare tutta una serie di processi biologici adeguati. Quindi esponendosi dai 2 minimo ai 30 minuti alla luce del primo mattino, esponendo i nostri occhi senza filtri, ovviamente senza occhiali da sole, questi processi vengono innescati in maniera corretta. E questo cosa comporta? Comporta un beneficio per il nostro sistema fisico, mentale, delle cascate ormonali favorevoli e tutta una serie di processi metabolici anche corretti che ci fanno poi vivere meglio anche il resto della giornata. Se lo sapevi o ne sai ancora di più, scrivimelo nei commenti, ti ringrazio di avermi seguito, se ti è piaciuto questo contenuto seguimi sui social, mettimi un like, un cuoricino e salva questo contenuto. Ciao!